Sia Ostok, ciao a tutti. Nella Londra di Sadik Khan, del sindaco laburista di origini pakistane, aperto alla società aperta, aperto alla società multietnica, multireligiosa, simbolo dell'accoglienza, simbolo della modernità, del progresso, nel quartiere di Edmonton Green, ieri sera, un uomo è arrivato all'ingresso di una stazione di polizia. Questa è una notizia completamente snobbata dai medi italiani. Quest'uomo ha cercato di dare fuoco all'ingresso della stazione di polizia successivamente. Nessun ferito per fortuna, l'uomo è stato arrestato come vedrete dalle immagini. Scotland Yard riporta l'evacuazione del posto, del luogo e la creazione di un cordone di sicurezza. L'auto grigio scuro ha sfondato una parte della porta di vetro dell'ingresso della stazione, l'uomo scende e versa liquido infiammabile con ogni probabilità benzina sulla strada, sulla gareggiata e poi le fiamme come vedrete. Su Twitter la polizia parla di incidente e smentisce ogni notizia ulteriore come sempre accade.